Ciao Astronomers! Oggi sono tornato in mio ofizio dopo un'incredibile settimana all'International Astronautical Congress 2025 in Sydney, Australia. E' stato un'evento incredibile! Abbiamo incontrato molti professionisti, scienziati e entusiasti da tutto il mondo, tutti partendo la stessa passione per l'esplorazione del space. E, ovviamente, abbiamo presentato le nostre tecnologie per le stazioni optiche e le radio ground stations, anche con il nuovo software radio to space per intrepid ground stations, mostrando come puoi esplorare l'espace dalla Terra con le nostre soluzioni avanzate, ancora semplicemente usate. Relato a questo, vi invito a visitare la nostra dedicata web, www.primalucespace.com, dove puoi trovare tutte le soluzioni sviluppate da Primaluce Lab Space Division. A presto! A presto! A presto prima dell'AIC abbiamo officciato il nostro brand new Sesto Sensu 3 focusing motor, e è ora disponibile per order, sia su nostra web, sia su www.pilettro.com, dove si può trovare. e da tutti i nostri negozi, www.pilettro.com, dove si può trovare. Allora, oggi voglio anche dare un'azienda rapida su tutto ciò che abbiamo appena rilassato per supportare i usati aiutori del Sesto Sensu 3. Prima, abbiamo appena pubblicato Play 1.9.7, che aggiunge supporto per Sesto Sensu 3. 3.9. You can download it right now from our website. Second, in the download section of Primalucelab.com, you'll also find the brand new Sesto Sensu 3 software package. This includes all the drivers you need to install Sesto Sensu 3 on the Eagle or on any Windows 10 or 11 computer, plus the new PLL Ascom Focuser driver version 3.7, which adds Sesto Sensu 3 support. And if you're using Sesto Sensu 3 with an Eagle computer, we also released Eagle Manager X version 3.1, which introduces the Ghost Mode support for Sesto Sensu 3, so you can control it from your Eagle even without the need for a USB cable. And that's not all, together with the new PLL version, we also released an updated edition of my book, Explore the Universe through Astrofotography Capturing Pictures with Telescopes and PLL software. This new version includes even more content that explains how to make Astrofotography with the telescope, camera and mount you prefer, helping you get the most out of your system with play. And, as usual, the book is free to read and download from our website. But if you prefer to have the printed high quality and our cover version, you can order it from our website or to our dealers. So yes, it's been a very busy and exciting time here at Prima Luce Lab. From Sydney to new software releases and now to Sesto Sensu 3 being officially available. If you want to learn more, you'll find all the information, software and more on our www.primolucelab.com website. And don't forget to subscribe, if you haven't already, so you won't miss our next updates and tutorials. Thanks for watching and as always, for more content that will help you to explore the Universe like a Pro, subscribe to our channel and clear skies!